salve a tutti e bentornati sul mio canale e sul canale di fitav toscana questo weekend si è svolto presso il tav laterina la finale del campionato d'inverno di skid alla finale si sono qualificati 38 tiratori ed ora guardiamo insieme i podi iscriviti al canale Grazie per la visione!